Buonasera, ben ritrovati. In apertura il punto sulla situazione Covid in Piemonte che resta stabile senza particolari criticità né sul fronte ricoveri né per quanto riguarda i contagi. Lo rilevano i dati resi noti soltanto oggi ma raccolti durante tutto il corso della settimana dalla regione Piemonte così come disposto dal Ministero della Salute. Nessuna criticità dunque a Novara come nel resto del Piemonte mentre prosegue la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose del vaccino alle persone fragili e agli ultra sessantenni. Questo è il punto per quanto riguarda il Covid ed ora torniamo a parlare del collegamento veloce, il collegamento stradale tra Vercelli e Novara di cui si discute da tempo e che ora è all'ordine del giorno dell'amministrazione provinciale vercellese che conta di arrivare presto alla fase dell'esecutività. Nuova strada a scorrimento veloce tra Vercelli e Novara si procede molto rapidamente. Presidente della provincia di Vercelli Davide Gilardino, a che punto siamo Presidente? Abbiamo appena giudicato la scorsa settimana alla ditta a giudicatrice dello studio di fattibilità l'incarico. Ci siamo già attivati a incontrare i tecnici, i professionisti che dovranno, avranno l'onere di realizzare il piano tecnico economico finanziario. Abbiamo chiesto loro tempi stretti, quindi da qui a fine dell'anno dovranno realizzare questo studio di fattibilità molto approfondito da predisporre, da presentare alla Regione Piemonte e così vedere sbloccati i primi 50 milioni di euro per le prossime fasi operative. Il tragitto è questo che vediamo nel progetto, più o meno dove si passerà? Si passerà come si vede da Bordo Vercelli, dal casello autostradale. Ci sarà un primo lotto che costeggerà di fatto la ferrovia Torino-Milano. Arrivati all'altezza della frazione Cameriano ci sarà poi uno svincolo per tornare sull'attuale strada provinciale che collega Vercelli a Novara e dopodiché si continuerà fino all'altezza di Casalgiate e poi fino a Vercelli. Se tutto funziona come deve, più o meno quando potremo vedere il cantiere? Noi speriamo nel 2023 di poter avere lo sblocco dei 50 milioni e quindi fare la progettazione esecutiva e magari cantierizzare immediatamente il primo lotto. L'augurio sarebbe davvero nel 2024 di vedere partire questa importantissima opera stradale. Ed ora a Novara dove nell'ambito dell'attività di indagine dell'Ufficio Immigrazione della Questura sono emerse irregolarità nella presentazione delle domande di soggiorno da parte di alcuni stranieri. Immediatamente sono scattate le denunce nei confronti di nove persone che avrebbero presentato false attestazioni di domiciliazione mentre in realtà negli appartamenti dove sono poi stati effettuati i sopralluoghi non erano mai stati domiciliati. Sempre nell'ambito dei controlli sono emerse anche delle anomalie riguardanti le dichiarazioni di ospitalità presentate da alcuni stranieri in favore di altri cittadini estracomunitari. Anche in questo caso gli approfondimenti di polizia hanno evidenziato sul territorio novarese un quadro di microillegalità diffusa. Immediate le denunce, una nei confronti di un pakistano, l'altra nei confronti di un cittadino marocchino e la terza nei confronti di una persona che era in possesso di un certificato rilasciato dal comune di Milano che in realtà era contraffatto quindi di fatto non valido. Ed ora parliamo dell'iniziativa Avventure di Carta. Dal 5 al 20 novembre avrà luogo la trentesima edizione di Avventure di Carta, festa di approfondimento sul mondo della letteratura per l'infanzia e per i ragazzi. L'importanza di questa manifestazione e dei suoi 30 anni di presenza ininterrotta si evince anche dai numerosi e prestigiosi riconoscimenti che adesso sono stati tributati, tra cui il premio Andersen 2010 e il premio nazionale nati per leggere 2015. Inoltre il Festival Avventure di Carta 2019 è stato inserito tra i 20 festival più significativi di qualità in Italia per festeggiare il ventennale di nati per leggere nazionale. Il tema di quest'anno non poteva che essere quello della pace. La situazione che stiamo vivendo ci sollecita da un punto di vista emotivo. Costruire la pace, fin dalla più tenera età, è un compito educativo prioritario. Una pace intesa in senso ampio, a cui ricondurre valori di carattere universale, quali la realizzazione del bene comune, i diritti, la legalità, la giustizia, la democrazia, la partecipazione. La manifestazione prevede una serie di laboratori, spettacoli e incontri pubblici che avranno luogo all'interno del castello. Il primo weekend prevede due incontri, sabato 5 novembre alle ore 15.30, con l'inaugurazione del Festival, il concerto Noti di Carta dell'Istituto Compressivo Statale Duca d'Aosta, che avrà luogo nel quadriportico del castello. Dominica 6 novembre alle ore 16.30, Andrea Longhi presenterà lo spettacolo teatrale alla ricerca di Nonna Natura, nella sala neogotica. Durante lo svolgimento del Festival sono previste attività che avranno luogo presso le scuole. In particolare sono previste gli interventi della Scuola di Musica d'Edero di Novara, di Maria Cannata, Andrea Longhi, Silvia Ruspa, Gloria Carraro, Emanuela Fortuna, Anna Borrelli, Raffaella Castagna, Silvia Bonanni e Gaia Fossati, della cooperativa ideando. Ulteriori informazioni, approfondimenti e aggiornamenti riguardo al programma saranno disponibili sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di Avventure di Carta. Voltiamo pagina, dialoghi con la scienza, sentiamo. Dialoghi con la scienza domeniche a teatro, a cura di Telmo Pievani, con studiosi e giornalisti per avvicinare la scienza alla cittadinanza e ai più giovani. Un progetto di Fondazione Circolo dei Lettori in partnership con Novamont e Nova. Il primo appuntamento è fissato domenica 6 novembre al Teatro Faraggiana, insieme al curatore, conversa la giornalista del Foglio di Coramedia Cecilia Sala. E dopo l'anteprima di ottobre a Nova con i dialoghi con la scienza off? E dopo l'anteprima a ottobre a Nova con i dialoghi con la scienza off? Ora è il momento degli incontri articolati a partire dai temi scientifici più urgenti e dalle loro narrazioni più avvincenti. Musica e teatro in via Oxilia 4 nel weekend, il servizio. Venerdì 4 novembre alle 21.30 per la rassegna Live Music suoneranno i Gringo Helsinki. Sabato 5 è la volta dello spettacolo teatrale dal titolo Occhi su di noi, dramma in atto unico a cura della compagnia Liberi dagli stereotipi teatro. Domenica 6 novembre alle 16 per la rassegna fiabe a teatro, ritornerà alla baracca di burattini di Demetrio Bazzotti della compagnia Bracadabra che porterà in scena Cenerentola. Tutti gli spettacoli si terranno nel teatro auditorium di via Oxilia 4 a Novara per info e prenotazioni 334-3271-656 e la mail via Oxilia4 su chiaccelagmail.com. Sabato mattina all'Arengo del Broletto di Novara si parlerà di prevenzione dei tumori. Relatori, illustri medici e professori universitari. Sentiamo. Sabato mattina 5 novembre nel salone dell'Arengo del Broletto come protagonisti insieme organizziamo un convegno dal titolo la prevenzione dei tumori della testa e del collo. È un momento importante, è un confronto con la città, più che un confronto un incontro con la città. Ci saranno relatori d'eccellenza perché per la maggior parte sono professori universitari della nostra università, quella del Piemonte Orientale e soprattutto questa iniziativa è stata accolta con favore da tutte le istituzioni perché abbiamo il patrocinio del comune di Novara, dell'università, dell'ospedale, dell'ASL, dell'Ordine dei Medici, dell'Andi che è un'associazione dei dentisti, del Rotary Club Novara, della Lilt. Insomma davvero abbiamo riscontrato il favore di tutti. Non ultimo ci sarà il magnifico rettore dell'università, il professore Avanzi, a portarci i suoi saluti così come il primo cittadino di Novara e questa è un po' la ciliegina sulla torta anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sarà presente. Sarà la prima uscita ufficiale per il ministro e ha scelto proprio Novara. Il focus però deve essere assolutamente sulla prevenzione dei tumori ed è rivolto alla città, ai cittadini. Quindi noi ci teniamo particolarmente alla presenza dei cittadini perché comunque informarsi, capire, documentarsi, entrare nel merito di cos'è che deve così insomma far accendere qualche spia d'attenzione è importante e noi con questo momento speriamo davvero di poter essere utili per la città di Novara. La Fondazione Comunità del Novarese per il quartiere Santa Gabio, il servizio. Spazi rinnovati di prossimità per Santa Gabio. Fondazione Comunità Novarese al fianco della parrocchia per il restauro del piano terra della casa parrocchiale. Sede operativa di tante attività. Chiunque può partecipare anche con una piccola donazione alla campagna di raccolta fondi. La Fondazione Comunità Novarese sta aiutando, supportando la parrocchia di Santa Gabio per realizzare la ristrutturazione della nuova casa parrocchiale per renderla un nuovo utilizzo un luogo di incontro per le tante realtà associative che sono sul territorio di Santa Gabio che sappiamo è uno dei quartieri più problematici di Novara. Riteniamo così di dare un segno di vicinanza alla comunità di Santa Gabio che pur essendo, ripeto, un quartiere difficile è estremamente generosa e partecipe attiva alla vita comunitaria. Ed ora andiamo a Varallo Sesia dove un cospicuo finanziamento legato ai fondi del PNRR consentirà di rinnovare completamente l'asilo cittadino. Due milioni a Varallo con i fondi del PNRR per la riqualificazione dell'asilo. È una magnifica opportunità per il nostro territorio. L'asilo sarà completamente riqualificato sia da un punto di vista energetico che di funzionalità con anche la parte esterna, quindi il parco, il giardino. Un lavoro molto importante inizierà a partire da marzo dell'anno prossimo, 2023. Avrà durata di circa un anno e mezzo. Ci saranno delle difficoltà perché l'asilo comunque rimarrà in loco e verrà diviso in due lotti. Quindi una parte si realizza l'intervento, nell'altra parte rimangono i bambini e poi viceversa vengono spostati nella parte nuova e si completa l'intervento. Una bellissima opportunità, molti fondi e che verranno utilizzati per la nostra comunità. APS Show Team, protagonista della moda internazionale alla Milano Fashion Week. Il servizio. Dopo il grande successo di febbraio, APS Show Team è tornata a Milano, capitale della moda per la Fashion Week con GX Fashion Week Milano, replicando, anzi superando il successo della scorsa edizione. Esatto, sono molto contenta del lavoro che abbiamo svolto. APS Show Team è un continuo migliorarsi e quest'anno abbiamo coinvolto il nostro evento a livello internazionale. Abbiamo fatto sfilare 20 Miss finaliste del concorso Miss Universe 2021, 20 paesi, la più bella del paese, ha sfilato nel nostro evento. Molto soddisfatta, ma questo niente da togliere alle nostre modelle di APS Show Team. Abbiamo visto 5 stilisti stranieri e 7 stilisti italiani, sia professionisti che abbiamo dato la possibilità anche a stilisti emergenti. E' contentissima di tutte le persone che sono venute all'evento, tra VIP, influencer e anche persone che sono arrivate apposta dall'estero per noi. E' grande emozione, ma anche grande commozione, vedere in passerella Elda Gioni, una giovane ragazza albanese diversamente abile, alla quale avete realizzato un sogno. Il suo sogno era quello di sfilare in una grande passerella di alta moda e vedere Elda Gioni in passerella per me è stata la più grande soddisfazione. Restiamo in tema ed ascoltiamo il famoso modello Franklin Santana, special guest della GX Fashion Week. A febbraio eri presente tra il pubblico come special guest alla GX Fashion Week Milano. Adesso ti vediamo in passerella. Io sono un po' cresciuto nella moda, perché vivo a Milano da una vita, la mia carriera è iniziata come modello. Grazie alla moda mi sono pagato gli studi dell'Accademia d'Altori, che è quello che faccio attualmente. E sì, la gentiana ogni anno mi diceva, guarda che il prossimo anno prima o poi fai la sfilata con me. Finché ho deciso di farla, è un'esperienza che già ho vissuto tante volte, ma che si era addormentata. E' proprio bello tornare alla moda, è fantastico, io adoro. Poi mi piace la creatività che hanno questi stilisti, perché tanti sono ragazzi giovani, con tanta voglia, tanti hanno appena finito l'Accademia dove studiano e allora la creatività in loro è palese, è presente, fanno tutto con tanta passione. Allora perché no, darle una mano. E per questa occasione sfili insieme al tuo nipotino Anthony. E' vero, sono contento. Ho la fortuna di che ho un sacco di nipotini che stanno facendo successo. Lo sport argento per Luisa Milanoli ai campionati mondiali di scherma, sentiamo. Se vorrei ridurci i campionati mondiali a Zara in Croazia, come sono andate? Molto bene direi, il bottino è stato ottimo, in quanto ho conquistato una faticosa medaglia d'argento e ho perso il mondiale, diciamo, sono vice campionessa del mondo per una sola stoccata in un assalto in cui stavo vincendo 8 a 5 e poi non so bene cosa sia successo, comunque mi sono ritrovata 9 a 8, 9 pari e poi sul filo di lana. La svedese mi ha messo la stoccata perché io sono uscita e lei mi ha chiuso praticamente al fianco e quindi ho subito questa stoccata. Però sono felicissima del percorso di tutta la gara e poi sono riuscita a condurre anche la squadra a vincere questa medaglia di bronzo, una medaglia pesante perché comunque abbiamo perso di poco, di due stoccate dagli Stati Uniti che poi invece hanno asfaltato le inglesi e quindi sono molto contenta perché poi nella finale per il terzo e quarto posto abbiamo invece vinto bene, con fatica, ma bene con la Germania. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.